Rimpastino d'agosto nella giunta regionale, tutto legato assicura il presidente Fedriga al nuovo assetto dell'organigramma, un aggiustamento non politico ma tecnico insomma, che vede il fidato Pierpaolo Roberti aggiungere alle già pesanti deleghe, alle autonomie locali, sicurezze e politiche dell'immigrazione, anche quella al personale e funzione pubblica, prima in capo all'assessore Callari. No, noi siamo partiti proprio dall'organizzazione dell'ente regione, non dalle deleghe dei singoli assessori. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato di creare una struttura unica, che è il nuovo assessorato di Callari, che possa occuparsi di tutte le cose interne della regione, per capirci degli affari regionali, al patrimonio, alla logistica, alla CUC e quindi ridare finalmente, evitare doppioni in ogni singola direzione, perché questo avveniva. Con questo, quindi con questo nuovo assessorato molto forte per quanto riguarda gli affari interni, abbiamo ridato per quanto riguarda il personale e la funzione pubblica alle autonomie locali, la delega, quindi all'assessore Roberti, così che ci possa essere coerenza nei rapporti tra enti locali e regione. Non è l'unico spostamento di deleghe, anche se il più pesante. All'assessore all'ambiente Scocci Marro va anche lo sviluppo sostenibile e il terzo settore, ex volontariato, è assegnato a Riccardi. A Callari, senza più personale, va però la delega al patrimonio prima di Barbara Zilli. I dragaggi che vanno alle attività produttive e che ha coerenza rispetto all'attività che svolge quell'assessorato e invece l'autorità di gestione per quanto riguarda i fondi comunitari alle finanze. Così, essendo fondi che riguardano più assessorati, potrà avere una regia unica e una visione complessiva della questione. Abbiamo una riorganizzazione tecnica, di carattere tecnico, con cui pensiamo di efficientare il lavoro della regione stessa. Grazie a tutti.